ebbene sì ragazzi è possibile utilizzare una musica di sottofondo quando utilizziamo stream yard come programma per le dirette streaming però io ho bisogno per poter realizzare questo video anche perché ho bisogno dei vostri commenti ho bisogno che voi mi chiediate di poter fare o di voler fare determinate cose quindi vorrei che il mio canale superasse i 4000 iscritti quindi diciamo che mi sono mi sono posto questo come obiettivo se pensate di potermi sostenere nel superare i 4000 iscritti sarò ben lieto di farvi non solo vedere questa procedura questo procedimento ma di poter anche inserire altre voglio dire altre mie esperienze acquisite in questi anni su software su programmi ma non solo programmi video ma anche fotografici su tutorial su altre cose io non ho altri programmi telegram ad esempio all'interno dei quali voi magari andate lì e io inizio a chiedervi dei corsi delle cose a pagamento non faccio questo ma non perché gli altri voglio dire non lo debbano fare io sto cercando semplicemente di far crescere questa community di far crescere il mio canale però ho bisogno del vostro sostegno quindi superati i 4000 iscritti partirò con questo video ma non solo questo video anche con programmi ad esempio come obs o da altri come photoshop e quindi inizierò tutta una serie di tutorial attraverso i quali cercherò di condividere le mie esperienze su questi ed altri software o programmi non solo legati al pc sapete che sono una persona molto tecnica o moltissimo tantissime esperienze e conoscenze anche in ambito tecnologico però ho bisogno del vostro sostegno quindi pollice in alto condivisioni commenti fatemi sapere al di sotto di questo video quindi nei commenti se riusciamo quindi se vi fa piacere ma soprattutto se riusciamo a superare i 4000 iscritti quindi vi aspetto al prossimo video e ai prossimi e i primi tutorial ciao